L'arrivo dei profughi a Carrù resta in sospeso. Un gruppo di almeno 20 persone è destinato ad essere accolto in una palazzina di Viale Vittorio Veneto affittata dalla cooperativa Alpi del Mare, Onlus, che nel Morregalese gestisce l'accoglienza anche a Mondovì, Magliano Alpi e Chiusapesio. La notizia in paese aveva suscitato reazioni da parte della cittadinanza, prima un presidio di protesta, poi due incontri, uno pubblico ed uno a porte chiuse con i responsabili della cooperativa. L'intenzione del Comune era quella di trovare una soluzione alternativa alla palazzina in Viale Veneto, fatiscente per l'amministrazione, pronta per la cooperativa dal 30 settembre con ordinanza comunale. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Siamo di fronte ad un'emergenza che non ha precedenti, una situazione di una gravità inaudita. Quello che io contesto come sindaco e a capo dell'amministrazione comunale di Carrù è il metodo di accoglienza. Non si possono avviare delle procedure di accoglienza a profughi senza che ci sia il coinvolgimento dell'amministrazione e della cittadinanza che è la principale protagonista a quello che è integrazione. Le strutture di accoglienza che operano in provincia di Cuneo sono strutture di accoglienza e di integrazione. Questo significa che è vero sì che vengono accolti ma devono essere integrati questi migranti, questi uomini, queste donne che giungono qui in Italia abbandonando la loro terra. L'abbandonano per motivi gravi che può essere la guerra, la fame o la miseria. Per cui l'integrazione deve essere necessariamente attuata ma l'integrazione non la realizza né la cooperativa né il proprietario dell'immobile ma è la cittadinanza. Per cui nel momento in cui viene a mancare il collegamento con la cittadinanza, che non c'è il coinvolgimento, non c'è neanche la partecipazione della cittadinanza all'attuazione, alla buona riuscita del processo di integrazione, l'operazione già parte male. Poi su questo, in modo particolare, sull'immobile di Viale Vittorio Veneto, a parole della cooperativa, sembra che ci siano candidati migranti, profughi, tutti di sesso maschile tra i 17 e i 25 anni. Questo, a parere della comunità carrocese, è ghettizzare una trentina o quarantina che siano di individui. Bisogna invece integrarli, bisogna attuare quello che la stessa Regione Piemonte dice, un'accoglienza diffusa. Non centri con tanti accentramenti di persone, ma tante piccole strutture con un'accoglienza di piccoli nuclei, perché in questo modo si possono integrare meglio con la cittadinanza che li ospita. Io, ecco, questo è il mio appello che rivolgo non solo a tutti i colleghi sindaci della provincia di Cuneo, ma a chiunque è interessato in questa argomentazione, che continua a dire, ci vede protagonisti in prima linea, purtroppo in un momento secondario. Invece i sindaci, proprio perché sono a capo di un'amministrazione comunale, di una cittadinanza, di una collettività, devono essere posti subito a conoscenza di un progetto di accoglienza che è meritevole di tutela e di buona esecuzione, ma è meritevole altrettanto di tutela l'integrazione.